Anche quest'anno è stato un grande successo. Si concluderà domani pomeriggio, dalle 15.30 al campo sportivo Elenio Herrera del Lido di Venezia, la quinta edizione della Ferta dell'Uovo, grande Kermes Parquale di calcio giovanile. In campo ben 470 bevicalciatori dai 5 ai 12 anni di 34 squadre veneziane impegnate nel grande torneo di calcio giovanile di Parqua organizzato dall'associazione sportiva direttantistica Calcio Lido di Venezia. Sono giornate bellissime, ci sono tantissimi bambini e qui a vincere è proprio lo sport e vedere i bambini che si divertono in questa maniera dove tutti sono vincitori. Bisogna sempre ringraziare i tici da una mano per questa bellissima festa. Oltre al Lido di Venezia, impegnato in tutte le categorie del torneo, erano presenti 11 società della nostra provincia. Ogni giocatore è risultato vincitore al pari di tutti gli altri, premiato con il suo uovo di Pasqua e una medaglia. A tutte le squadre anche una targa ricordo. Si spera che vada tutto per il meglio anche nell'ultima giornata che abbiamo rimandato da ieri, che verrà posticipata sabato. A sostenere il torneo, oltre a tutti gli allenatori della società e collaboratori, anche il gruppo Aviso CTV del Lido, la Croce Bianca e il Comune di Venezia che lo ha inserito nel programma Città in Felta. Impegnati in partite e mini tornei, le categorie esordienti a 9, misti, esordienti a 9 primo anno, pulcini misti, primi calci e piccoli amici. A tutti un applauso.